Per la prima volta apriamo qualche mystery box Oggi andiamo ad aprire qualche mystery box sul sito di Hypedrop Di solito non facciamo questo tipo di video perché sappiamo che spesso c'è la possibilità di essere scammati o cose del genere Ovvero la possibilità di essere fregati, ovvero mettere i propri soldi per poi non vincere niente E sappiamo che in passato è già successo su YouTube che alcuni YouTuber sono stati impagati per essere testimonial di questi siti Che gli facevano vincere apposta e poi dopo tutte le persone che compravano da quel sito in realtà venivano derubate possiamo dire Però per quanto ci riguarda ci siamo ben informati, i ragazzi di Hypedrop ci hanno contattato e ci hanno dato un carrello di 350 dollari da spendere sul loro sito Però abbiamo le stesse possibilità che avrebbe un qualsiasi compratore e questo diciamo è un video sponsorizzato Però non è che vogliamo invogliarvi a comprare mystery box e semplicemente vi volevamo far vedere come funziona questo sito Essendo probabilmente uno dei pochi che non truffa la gente e anche la grafica del sito come è strutturato in sé è molto carino Quindi speriamo di divertirci Come vedete abbiamo un portafoglio virtuale diciamo di 350 dollari e questa è la schermata dove ci sono tutte le box possibili e immaginabili Partono dallo streetwear, c'è gaming, flexwear, supreme collection, accessori per il gaming, per il pc C'è praticamente di tutto ma probabilmente noi ci focusseremo probabilmente su sneaker e qualcosa di streetwear Direi di cominciare con Hype Shoes, NM Kicks direi sì, si può cominciare con questa box Costa 80 dollari quindi alla fine non costa neanche poco Come vedete qua ci sono i premi, i primi premi che naturalmente saranno impossibili da vincere Qua ci dovrebbero essere ecco le percentuali infatti le Balenciaga Speed Trainer 0,0005% E meno male forse che qui si potrebbero vincere con poco Come vedete collaborazioni, Nightmare Off-White, qua abbiamo le Cactus Jack Ah, Goal Talk e Malik le cerca, attenzione attenzione Ci sono scarpe sia limitate che non E però naturalmente dobbiamo andare a vedere quali sono le principali vincite Ovvero gift card a 50 dollari di Vance, gift card a 50 dollari di Zara 2-3% per le ciabatte insomma Come avete visto c'è poca possibilità di vincere roba buona Prendiamo qualche scatola Comprata, allora c'è quantità 1, open e poi c'è preview Ah, preview è tipo un test Tipo cosa avresti vinto se avresti girato adesso Eccoci qui e poi Una Ok, ok va bene Guarda io ne faccio un'altra Giusto così magari viene fuori un'altra gift card a 50 Avanti e dopo andiamo a vedere Tanto questa cosa è superintenzione Superintenzione Nooo, avremo in teleutrobus Porca Adesso è un casino No, ho premuto il premio ancora, mi spiace No, avremo in teleutrobus, ma ci credi vecchio? Sono pronti? Ho visto troppe cose belle, ho visto? Gli easy così E che si può rivendere per 47 Ma intanto teniamoci l'olita Sì, ce lo teniamo lì Ah, ce facciamo un'altra Ma non ci ha portato tanto bene all'inizio Vuoi fare tutto Certo, vai fortunato Con le rap o qualcosa del genere Tu voglio chiedere di fare una preview Ma ormai ti sei lanciato a bocca Eh, forse ho sbagliato Forse ho sbagliato Forse un po' No, Zara No, Zara no Questa la vendiamo di brutta Questa la vendiamo Questa è venduta subito Eh, qua infatti abbiamo perso un po' Eh, ci abbiamo perso Eh, ci abbiamo perso 3 dollari Che 3 dollari? Abbiamo preso 80 No, è vero Sì, magari 3 dollari Abbiamo perso i 33 Ok, se andiamo nella modalità exchange Che è una modalità molto interessante Dove si può praticamente scambiare Quello che avete vinto Per altri oggetti Come vedrete dopo Che possono essere legati allo streetwear, sneaker Qualsiasi cosa che ha lo stesso valore Comunque un valore minore E la differenza attualmente ve la tenete voi Ce la vendiamo questa No, aspetta, finirà con un po' Ah, ce la teniamo Può essere l'unica cosa buona Che vinceremo E adesso andiamo a prendere qualche altra box Cosa vuoi fare? Io vorrei aprire una di queste mie Marika ha scelto questa Just for fun E come vediamo ci sono dei droni Il Phantom 4 Che ci guarda Ecco, penso probabilmente sia molto poco probabile Con due euro, soprattutto Sì, un Xbox One Un cosa di Paras Nintendo Switch Un po' pazzesco di cose Noi siamo dei gamer incredibili Cioè, gamer incredibili Giacchiamo Mutana Play Qua si vincono delle chiavi Cioè, delle chiavi portachiavi Delle chiavi che aprono bottiglie portachiavi Un aeropinio portachiavi E delle pochiette Questa costa due dollari e cinquanta Quanto costeranno le Cioè, comunque le cuffiette C'è una buona percentuale Quanto costeranno le cuffiette? Tre dollari, dai Tre dollari, dai Almeno una facciamo, dai Dai, facciamo due Io partirei con una preview Quando fai il preview Viene sempre vero Beh, no, prima è venuta Che la... Vabbè, proprio Due preview e la terza facciamo Due preview Allora, se viene fuori la Play E' pazzesco Tra l'altro questi pupazzetti Si chiamano Pops Io ho due sempre voluti Era Yugi E' un grandissimo fan di Yugi Ok, quattro Ok, due di fila Guarda, due di fila Della chiave Adesso ci sarà qualcosa di buono Guarda, non dico una Play, eh Oh, mio Dio Ci si può perdere Perché si vende per uno e cinquanta e sei Basta Dio, ma cosa dobbiamo Andiamo, andiamo Apriamo l'altro Subito Comunità al top Dai, quattro di fila sfigati C'è Ci vuole la sfiga Uno e sessantotto Ultima Oh Cinque di fila sfortunate C'è Poco sfortuna No, quasi la Play 1 2.31 2.31 C'abbiamo perso pochissimo Cioè, abbiamo comunque perso Però quasi la Play 1 C'è la Play 1 Quella che hanno fatto nuova Bellissimo Ci avremmo passato Il pomeriggio Beh, ritorniamo con Box un po' più carismatiche Bigomite Abbiamo bisogno Sì Visto che ci dite Comprate BVCity Hype Ah, io le dico qui Se escono le Sean Waterspoon Che sono il mio grain della vita Facciamo la giveaway De Sean Waterspoon Cioè Se prende Sean Waterspoon Mi attaglia Faccio il giveaway Adesso se escono veramente Sembra tutto organizzato Sì, esatto E poi non ci sarà La giveaway Taglierò il best Abbiamo, sì Scarco of White Feb Supreme Bape Scarco of White Jordan Scandalose Tipo queste Prendiamo una per essere cauti Preview Sei sicuro? Una preview E dopo la spagna Una preview Una preview Ci sta Ci sta Ci sta Come ragionamento Fila Ma erano buoni Le cose praticamente peggiori Da prendere Ci sta E adesso Ce l'apriamo 46 211 Qualco I soldi Vanno giù Non giù I soldi Vi tornereai a vedere Qualche box Dai La mia è quelle piccole Sono quelle che gli danno più soddisfazione Perché ne apri tante Sì esatto E dici Prima o poi vincerò Invece che se spendi 70 euro in una box Dopo Sono sempre triste Io direi di aprire un altro App shoes Sì almeno due App shoes Non fatte Dai vai Compriamo Tre preview E alla quarta Ok Tre preview Alla quarta si va Preview non c'è Tensione da parte nostra Comunque Ok Noi pensiamo che Adesso prendiamo Il guard Dopo prendiamo Le blazer Lì però Abbiamo fatto Adidas Vance Adesso ci manco Zara Prima Nike Questa va aperta Abbiamo preso tutte Abbiamo preso tutte Abbiamo preso tutte No Zara No Zara No Zara 47 dollari Ancora E qua I nostri portafogli Vanno giù Io andrei Su un campo Che proprio Non ci appartiene Ovvero Supreme Collection Cosa che si possono vincere Perché la porta chiavi No Qua porta male E dopo una pausa Un po' riflessiva Siamo convinti Che Just for fun Per 2 dollari e 50 Puoi regalare delle gioie Io direi di comprarne Addirittura 3 3 Va bene 3 Una preview Un'apertura Due preview Un'apertura Vediamo la preview Va bene Ci sta Ci sta 1 e 12 Un paio di confiatture 12 3 dollari Dai Quindi adesso 2 preview 2 preview 2 preview Poi si apre 3 preview Poi si apre Comunque Seriamente Dobbiamo ancora vincere qualcosa Che sia Di più del valore Nella listing box Abbiamo vinto le ultra boost E era una preview Si era una preview Adesso si apre Vabbè qua l'ho venduto Non ti ho neanche Chiesto 3 preview Con mano Malik Ricordiamo Malik Quello che vince La sneaker app Ok Questa è la seconda Questa è la seconda Eh Oh chilo Oh ma per me adesso Ma così No No In crisi In crisi si Ok 1 settanta Cosa facciamo Vediamo Vediamo Siamo in un canale Di street or sneak Apriamo Street or sneak Se si perde Via La Intrattenimento Anche da sidekicks Si Diciamo un paio di easy Un paio di easy Senza preview Senza preview Senza preview Alla apriamo E' già scritta Guarda E ci vende per 23 Adesso c'è me Solo 100 euro Passiamo alla frutta Andrei su Supreme Che proprio non è il nostro campo Però andrei con una preview Ma era buono Mi scadavo abbastanza Quali viola sono Era buono Aspetta Andiamo a vedere 0-23% Avevamo di prenderlo Abbiamo 9 dollari E abbiamo adesso Cosa Nel reparto exchange Abbiamo questa roba Che Dopo Dopo Sì Poi andremo a scambiare Come Abbiamo già spiegato Questo è il momento Questo è il momento della verità Prima Quindi abbiamo 185 dollari di budget Direi di selezionare tutto Exchange for items Ovvero li scambiamo Per una bella Jordan 1 of Wipe Cosa ci puoi Più ci aggiungiamo Sì Esatto Allora abbiamo Price range Cosa abbiamo 180 190 Da 100 250 Figa questa Modalità Nel senso che puoi scambiare le cose Trovi cose che non ti piacciono Tipo Un portachiavi Così Lo puoi scambiare Però qua non ti dice Quanti soldi ha Cioè nel senso Io non mi ricordo Adesso l'esatta cifra Cerchiamo un po' E vi diciamo Visto che appunto Siamo in due E sarebbe solo un premio Abbiamo già visto una Maglia Supreme Con un pattern Che è Ma secondo me Secondo noi Poi Molto figa E chi vince praticamente Sa già di prendere quella Abbiamo diciuto che Con la rota della fortuna Un'applicazione che Usiamo spesso Quando siamo indecisi La usiamo E il primo Che viene Estratto diciamo Tre volte dalla rota della fortuna Vince E l'altro Poverino Si spera che Airdrop ci dia Un altro budget Però Magari la prossima volta Airdrop ci dà un budget Maggiore E quindi Quello che non si becca Questa roba qui Si becca tanta altra roba Mentre adesso Cerco la maglia Che sono uscito Un attimo E l'ho persa Diciamo che comunque Se volete Usare questo sito Vi lasciamo In descrizione Un link Non è Un link di affilazione Nel senso che Non è che Più di voi ci cliccano Non ci doniamo qualcosa Semplicemente Il link di questo sito Comunque se volete divertirvi Un po' aprire qualche box Avete visto che Comunque le percentuali Di vittoria Difficile Non sono Non sono molto alte Però comunque Non ci siamo divertiti Adesso ci prendiamo pure Non ho mai Non è il primo Che Chi viene fuori Vince 3 sentadini Cioè Prima che arriva 3 No Malik 1 Malik 2 Intendibile Ho già perso Ho già perso Oh mio Dio Nico 1 Mio Dio Di alunico Nico 2 2 2 No Malik No Malik Don't you No Malik Non ci credo Non puoi finire inizio Bazzardo Sì 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 Magari Vi teniamo aggiornati Su Instagram E magari faremo Una piccola parte In un prossimo video Dove vi faremo vedere La maglia Per vedere se è veramente real Ma i ragazzi del sito Ci hanno assicurato comunque Tutto legit 100% Come avete visto Alla fine Con 350 dollari Siamo riusciti a prendere Una maglia da 160 Sì Ci siamo divertiti Sì Sì Perché è bello Però alla fine Sì Ci abbiamo entrato fuori Una maglia da 160 Scriveteci nei commenti Se vi è piaciuto Questo tipo di video Mi raccomando Mettete like Commentate Fate tutto quello che è possibile Per farci fare Magari altri video qui Magari la prossima cosa Che vinceremo La metteremo anche Il giveaway Direi che non c'è più Niente da dire Speriamo vi sia piaciuto Questo video Vi ricordiamo Il link di Instagram In descrizione Vi ricordo che siamo Siamo in Kicks Ciao a tutti